eccomi qua ragazzi bentornati qua in questa 52esima puntata della serie north frisia finalmente sono riuscito a tornare anche qua purtroppo ho avuto qualche piccolissimo problemino durante la settimana mi spiego un attimino brevemente cosa è successo praticamente con il live verso le 15 come al solito quindi mi raccomando ogni sabato dipende da cosa succede sono in live dalle 15 su alle 3 di pomeriggio fino alle 4 e mezza ecco e li parlo un po di tutto gioco un po farming parlo con voi tutto quanto invito anche a seguirmi sulla mia pagina instagram voglio sapere un attimino ci sono eventuali rogni o altro e anche sulla mia sezione community sempre sul mio canale quindi mi raccomando fatelo così sempre informate su ogni cosa che faccio dico insomma sono in live dico vabbè proviamo qualche modo interessante che ho trovato in giro di vedere se sono buono o meno provo premo dei tasti per usare delle funzioni non succede niente guardo la lista delle mode sulla cartella e vedo che ne mancano un app a sua e dico cosa che è successo guardo insomma in poche parole avevo perso delle mode occupiandole da una cartella all'altra e purtroppo molti di questo modo erano di questa serie qua quindi ho passato all'inter live a cercare di sistemare tini qua tini spazzicare dai bevi che ti fa bene da bravo cane veneto devi bere assolutamente questa bellissima prelibatezza e sono passato tutto il tempo a sistemare questo problema c'era tutte quante le modi di sistemare tutto quanto come se fosse prima come prima scusate e l'effetto del brulè sta facendo l'effetto si sono un po rincretinito quindi iniziamo bene e insomma alla fine sono riuscito di sistemare il tutto però purtroppo ho perso una settimana adesso è venerdì sera incerto adesso fare la puntata quindi poi vabbè ho finito la serie user jet la puntata poi ho fatto un po di lavori a casa e sistemato gli ignoranti quindi purtroppo il tutto è andato perso tutto il tempo che avevo poter fare questa serie qua è andata persa quindi ho andato solamente adesso quindi spero di poterla finire il presto possibile per poi ricominciare con l'altra insomma a cercare di recuperare un attimino quello che è nato perduto ecco mi sento un pochettino diciamo triste ecco perché ho perso tempo per niente ma vabbè insomma lasciamo perdere se siamo qua per andare avanti a fare lavori non prendiamoci in crackere che c'è tanta roba da fare oggi come avete visto in questo video sono andato a prendere questo bellissimo prende insomma ho installato questa bellissima serra mega gigante che mi ha occupato una quintana di spazio ma dato che avevo spazio ho detto ma sì dai buttiamola qua tanto alla fine non è che se non era tanto brutta adesso però è stato il momento di renderla un po più carina perché come sapete mi piace sempre sistemare il tutto in modo di rendere un attimino più più bello ecco più esteticamente accettabile rispetto a una roba del genere con la terra attorno quindi adesso mi trasformo un attimino in architetto di aziende agricole vado subitissimo a dargli un tocco più personale anche più carino si sono un attimino più per il genere con la terra attrazione anche per mangiare un'acqua prodigio con il nostro corso e di risultato di un'acqua di risultato di un'acqua prodigio con la terra attrazione per le ragazzo di un'acqua prodigio con il maggiore e si sono un'acqua prodigio con la terra attrazione Grazie a tutti. 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 Ok, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.